Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto ai Gigi e da oggi siamo qui ritornati su Fortnite Finalmente per parlare dell'evento finale di questa sera, ve lo dico subito, vi aspetterò in live già dal pomeriggio Fino a sera tardi, quindi faremo una mega maratona, vi aspetto Saremo ovviamente in live anche domani per la nuova stagione, anche se però della nuova stagione dobbiamo un attimino parlarne Perché già l'orario dell'evento è strano, sì ragazzi, 23 e 30, è molto tardi, non hanno mai fatto un evento del genere così tardi E quindi ho dei dubbi anche a livello di orari per quanto riguarda la prossima stagione Non lo so bene cosa vogliono fare, è un po' particolare la situazione e ne parleremo nel video di oggi Prima di continuare col video, però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato alle cose oggetti di Fortnite, mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che sul supporto a un creatore ci sia scritto GGYT, tutto grande, tutto attaccato Anche perché ogni due settimane il codice scade dovete reinserirlo Grazie proprio di cuore a chi lo farà, è fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace per supportare questa Che comunque di fatto è una GG News, mettiamo pronte e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Allora sì ragazzi, parliamo subito dell'elefante nella stanza, l'orario È un orario molto strano, non abbiamo capito perché effettivamente Epic abbia deciso di fare questo evento a un'ora così strana Però sappiate che effettivamente come orario in America probabilmente è più comodo Non so se sia stato fatto per andare incontro anche più agli orari asiatici, per i player asiatici Non lo so in realtà, però sicuramente qui in Europa adesso diventa un po' più complicato Se effettivamente gli eventi continueranno a farli ad una certa ora Anche perché ragazzi io non sto pensando solo all'evento in sé che sarà le 23.30 Ma sto pensando anche al fatto che non so come verrà gestita la prossima stagione Nel senso, fino all'anno scorso ma anche proprio nelle ultime stagioni Sapevamo che magari il venerdì sera, il sabato sera c'era l'evento finale Per tutta la notte poi avevamo magari server offline, manutenzione, poi aggiornamento E poi dopo un po' server online Io ad oggi non so dirvi effettivamente come Epic gestirà poi subito dopo l'evento finale la situazione del game Cioè magari potrebbe anche esserci una piccola manutenzione Magari subito l'aggiornamento ed esce fuori tutto, non lo so Poi per carità qui in Europa ci interessa poco perché poi è notte Meno chi non c'è qualcuno che si vuole fare la nottata per giocare e fare, non lo so Però effettivamente io da questo punto di vista solitamente vi dico sempre magari orari e come potrebbe comportarsi Epic Ma stavolta non saprei proprio che cosa dirvi Cioè sono un po' in un... Cioè no in un... Cioè sono un po' in dubbio pure io perché non saprei effettivamente che cosa aspettarmi ecco Quindi ecco questa è la prima cosa Tra l'altro in questi giorni molti voi avranno notato soprattutto la sera che su Fortnite c'è la coda Cioè prima di entrare in game vi parte la coda e dovete aspettare un po' di minuti prima di entrare È tutto normale, pare che sia Epic insomma che fa prove anche per l'evento E quindi qui sorge magari spontanea la domanda Ma quindi io stasera a che ora devo entrare in game? Allora la risposta corretta sarebbe il prima possibile Cioè quando voi potete avviare Fortnite e tenerlo avviato Fatelo Chiaramente occhio Occhio all'opzione dello spegnimento automatico Quello della modalità riposo Lì state attenti perché chiaramente potrebbe essere un problema Però prima potete accendere Meglio è Per chi ovviamente non può perché magari state giustamente fuori Perché magari non vuole tenere il dispositivo acceso per tutto il giorno Diciamo è verso ora di cena Potrebbe non essere male Quindi 20, 20 e 30, 21 Poi non è che vi sto dicendo che se avviate il gioco alle 22 non riuscite ad entrare Però stiamo parlando di Fortnite Cioè potrebbero esserci dei problemi Io vi metto le mani avanti Chiaramente Poi ripeto magari qualcuno prova ad entrare alle 11 e un quarto Quindi neanche ad un quarto d'ora all'inizio dell'evento Ed entrate eh Cioè probabile Però se volete essere proprio sicuri 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 Eeeh Prima lo potete avviare Meglio è insomma Io appunto anche per quello sarò in live già dal pomeriggio Quindi insomma vi aspetto Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando vi aspetto In tanti perché ho parecchio hype E effettivamente questa volta Oltre a non sapermi cosa aspettare per la stagione successiva Anche proprio per la season in sé Insomma insomma Cioè scusate per l'evento in sé Eeeh Tanti dubbi Tanti dubbi Ma ora ne parliamo Allora Uno dei teaser che ha fatto in questi giorni Epic Era proprio per Pleasant Park Parco Pacifico Alcuni voi potrebbe sembrare strano Perché magari potrebbero dire G ma Pleasant Park non è il capitolo 1? Sì Ma è anche capitolo 2 Cioè Quando Epic fece il cambio mappa Diciamo sì Dal capitolo 1 al capitolo 2 Non la stravolse totalmente Nel senso Totalmente diversa Ok Ma appunto non la stravolse completamente Perché alcune zone Come per esempio anche Corso Commercio Rimasero Ma diverse città E anche diversi punti di interesse Proprio rimasero E tra questi appunto C'era anche Eeeh In solo ragazzi Ne stavamo già parlando Un po' di tempo fa Finalmente questo è post ufficiale Da domani 2 novembre Giorno appunto Della nuova stagione Teoricamente Ci sarà come modalità disponibile In reload Anche le solo Ora 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 Cosa molto importante Noi sapevamo Che sempre il 2 novembre Quindi sempre domani Arrivava la nuova mappa Della reload Che però non andrà A cambiare totalmente La mappa della reload Ma si alternerà a quella attuale Cioè noi da domani Teoricamente Questo è un leak Ragazzi non è confermato Da domani avremo due mappe In reload O comunque non so Se la attiveranno proprio domani O magari nelle prossime Settimane Comunque Avremo due mappe in reload Che si alterneranno Probabilmente Ogni mezz'ora Quindi una mezz'ora È disponibile una mappa Una mezz'ora sarà disponibile un'altra Probabilmente Quella che verrà aggiunta Sarà la mappa Del capitolo 2 Quindi noi avremo una mappa Oggi Del capitolo 1 Che è quella attuale di reload E la mappa Invece Fatta sempre piccola In miniatura Chiaramente Del capitolo 2 Che si alterneranno Io vi ricordo ragazzi Che effettivamente La modalità reload Non è la modalità Del capitolo 1 Tant'è che attualmente Come sapete Insomma Se l'ha giocato un minimo Non ci sono mica Solo le armi Del capitolo 1 Ci sono anche le armi Per esempio Del capitolo 4 Addirittura No? Capitolo 3 Insomma È come se fosse un po' Una modalità Che va a racchiudere Tutte Le stagioni E tutte le armi Tutte le zone Più iconiche Diciamo Del passato Di Fortnite E la mappa In questo caso È comunque Una mappa Ispirata più Al capitolo 1 Come sapete Ok E quindi probabilmente Arriverà Alla mappa Più ispirata Al capitolo 2 Invece Che diciamo Ci può stare Per completezza Della modalità Se effettivamente Non deve essere Una modalità Solo del capitolo 1 Questo ragazzi Mi ha distrutto Smolecolato Devastato Va bene Però ecco Questa della mappa Ragazzi Era una cosa Che volevo aggiungere io Perché è una roba Di cui stavamo parlando Nelle ultime settimane Nelle ultime GG News Però noi adesso Sappiamo Ufficialmente Che da domani Arriveranno le solo In rilodo Quindi questo Prendiamo e portiamo a casa Poi Sempre perché ormai Siamo entrati in tema Teaser Abbiamo questo qui Che è un teaser Mi sembra Mi sembra Della spiaggetta Delle mie prime Casettine di fiducia Perché voi dovete sapere Ragazzi Che le GG News Nascono Nel capitolo 2 Proprio agli inizi Del capitolo 2 E più o meno Sempre anche in questa zona qui Perché se non ricordo male Le mie prime casettine di fiducia Cioè erano sempre Verso in basso A sinistra Centro-sinistra Dunque sempre verso Questa zona della mappa Ovest diciamo E nasce appunto Il mio primo punto di fiducia Che erano queste casettine Su questa spiaggia Molto simili A queste del capitolo 5 Tant'è che io agli inizi Ve lo dissi Dio regà Ma a me sembrano Le prime casettine del capitolo 2 Feels Incredibili E non lo so regà Io la butto lì Cioè sembra quella spiaggetta lì Speriamo Comunque Insomma Se deve tornare quella mappa Io credo che tornino anche Quelle casettine di fiducia Quindi chi si sia Insomma Chi si fosse perso Quelle prime GG News Potrebbe tornare magari A vedere come erano Un tempo Tra virgolette E in quest'altro teaser Invece insomma Viene un po' confermato Che una di quelle skin Che erano state teaserate Negli ultimi giorni Quando hanno pubblicato Quei trailer Un po' particolari Erano effettivamente Tra le skin Insomma c'era questa skin Che effettivamente È una fusione Tra Gaff e Sky Però insomma Era abbastanza palese Però direi che Con questa immagine Questo teaser Viene un attimino Confermato il tutto Poi abbiamo La farfalla frattura Un po' come la chiamo io Che conferma Ancora una volta Che il punto zero Tornerà ad essere Protagonista degli eventi Questa cosa ragazzi Mi crea una curiosità Cioè regà Io veramente Sono genuinamente Troppo curioso Di sapere che cosa Accadrà stasera Comunque quello che vedete qui È il I social Insomma X Insomma Twitter Di Fortnite Che ha messo Appunto questa roba qui Come immagini Profilo e copertina Sono veramente curioso Regà Perché mentre Unque nelle scorse stagioni Scorsi eventi Sapevi bene o male Quello che stava succedendo Perché hai vissuto Delle prime fasi Gli incarichi Eccetera eccetera Questa stagione Si è fissata tutta Sulla Marvel Su Doom Eccetera eccetera Quindi insomma È difficile adesso Capire cosa Possa accadere No? Cioè molto complicato Cioè sappiamo Semplicemente Finiremo nel capitolo 2 Quindi teoricamente Ci sarà un andare indietro Nel tempo E quindi molti dicevano Che magari Iron Man Potrebbe avere un po' Un ruolo fondamentale Tant'è che c'è Riff Beacon a colonna Che sta andando avanti Con le fasi E a proposito di questo Nel momento in cui Sto registrando io Che è sostanzialmente Ieri sera Al 31 sera C'è appunto ancora La terza fase Ma teoricamente Il momento in cui Uscirà questo video Dovrebbe essersi attivata Anche la quarta Ok? Che dovrebbe ancora Intensificare Riff Beacon Che sta sostanzialmente Proiettando questo Faccio di energia Su il Diciamo Lo schermo Del teatro Di colonne Su cui tra l'altro Avevano raffigurato Questi spray Che vanno a raffigurare Delle zone fondamentali Del capitolo 2 Come l'agenzia E lo squalo Ed è come se stesse Creando una frattura Infatti l'evento Sarà lì Tant'è che appunto Anche Nel Immagine Oddio immagine promozionale Il messaggio promozionale Ci viene detto appunto Che sarà lì a colonne L'evento Probabilmente sarà proprio La frattura Che ci teletrasporterà Tant'è che Magari l'evento Potrebbe anche Semplicemente essere Il teletrasporto Nel capitolo 2 Magari i server Saranno già online Dovremmo poi scaricare Qualcosa subito E si potrà già giocare Non lo so Cioè per quello Vi dico che non so Che cosa aspettarmi L'unica cosa che sappiamo Di cui effettivamente Abbiamo già parlato Alche settimana fa È che diverse zone Di questa mappa Verranno distrutte Quello era stato legato Molte zone In realtà Adesso fare l'elenco Sarebbe un po' difficile Però diciamo Ci sono diverse zone Che verranno proprio distrutte Di questa mappa E quindi Un'altra cosa Che posso immaginarmi È qualcosa che succede Magari tipo il punto zero Che perde il controllo Oppure torna un cattivone Magari Mephisto Se incavola O torna Duma Per qualche motivo Non lo so Inizia a distruggere la mappa E l'unico modo per salvarci È tramite la frattura E tornare nel capitolo 2 Queste sono teorie ragazzi Eh Torno a ripetere Prendete con le pinze Tutto quello che vi sto dicendo In questo Frangente Però Sono cose che Oh Magari Volevo dirvi Volevo parlarne Eccetera eccetera Aspettate Questo qua però Che vuole fare Eh No se sta a prendere la macchina Mi sa No Vabbè Fammose a fare i nostri Tra l'altro comunque Uscendo un attimino fuori Da questo Argomento Quindi dall'argomento Evento Prossima stagione Eccetera eccetera Eh Sappiate che Epic Sta continuando a lavorare Alla personalizzazione Delle skin E un'altra personalizzazione Che arriverà in futuro Sarà quello delle scarpe Come se Con alcune skin O forse con tutte Non lo so Saremo in grado di cambiare Appunto le scarpe Proprio alle skin E personalizzarle Un po' come vogliamo Una figata pazzesca Una figata pazzesca Io spero che Prima o poi arriveremo Al punto in cui Potremo modificare le skin E togliergli per esempio Le granate A quelle che c'hanno Le granate sulle gambe Cioè tipo marshmallow No? Ste granate magari Gli stanno Pronto Madonna 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 Sono sopravvissuto Sono sopravvissuto Di nuovo Eh ma io qua Prima un po' Muoio Prima un po' Muoio Dicevo per esempio C'ete presente Marshmallow Che ha ste granate Un po' Sui fianchi Ci sono alcune skin A cui stanno bene Altre skin A cui secondo me Soprattutto quelle femminili Che magari Sono un po' Più snelle Diciamo così Che c'hanno ste granate Gigantesche Che sembra che C'hanno un peso Che non riescono a correre Ma anche ad alcune Di maschili Cioè non lo so ragazzi Non mi piacciono È proprio l'effetto visivo Che mi danno Non esteticamente Comunque ecco Questa qui è la fase attuale Nel momento in cui sto registrando Vedete questo Rift Che si sta Prentattivando In questi Spry Che rappresentano qui L'agenzia Qui appunto lo squalo E quindi insomma Per quello vi dicevo Che lo scenario Che mi sono immaginato prima Potrebbe effettivamente Verificarsi No non lo so Staremo a vedere Staremo a vedere Comunque sempre Rift Deacon De Tony Stark De Iron Man Quindi ragazzi Io vi rinnovo ovviamente L'invito per la live Di quest'oggi Non dico di questa sera Perché ripeto Saremo in live Già dal pomeriggio Vi aspetto Mi raccomando Sia su Twitch Che su Youtube Qui su Youtube ovviamente Usciranno poi ovviamente Contenuti La reaction All'evento Ecco La reaction all'evento Probabilmente magari Uscirà direttamente domani Perché se poi è così tardi Mari ve lo faccio dire domani mattina Come video mattutino Ma non lo so Vediamo Mari ve lo pubblico De notte Chi se lo vuole Codere de notte Se lo guarda de notte Chi se lo vuole Vedere domani mattina Poi se lo segue domani mattina Tanto è già lì pubblico Ripeto Dipenderà molto da Come Epic Gestirà i server online Offline Aggiornamenti Non aggiornamenti Nuova stagione Non nuova stagione Eccetera eccetera Sono davvero in hype Perché forse è uno Dei pochi eventi In cui veramente Non sappiamo bene Cosa aspettarci Chiaramente ragazzi Oggi in giornata Probabilmente alcuni leaker Riusciranno A leakare alcune cose Io ragazzi Lo sapete Al ridosso dell'evento Non vado mai A leakare A parlare dei leak Che spoilerano Eccessivamente l'evento Perché Cioè mi sembra inutile Cioè ormai sei arrivato Al giorno dell'evento Che ti costa aspettare sera Per seguirlo un attimino E magari guardarlo Con un occhio sorpreso Cioè Non lo so ragazzi Mi sembra un po' Una cavolata Spoilerarsi Troppo Il giorno dell'evento Regà Oddio uno è caduto dall'isola LOL Cioè mi sembra veramente Boh Inutile Veramente inutile Spoilerarsi Le robe Il giorno dell'evento Quindi raga Veramente Non vi spoilerate nulla Venite in live Che seguiamo insieme E ci divertiamo E ci divertiamo Facciamo anche altre cose Cioè nel senso Giochiamo ovviamente a Fortnite Però Non è che staremo solo lì Da aspettare A girarci i pollici Ecco E poi ovviamente Come al solito Vi ricordo di iscrivervi al canale Per non perdervi tutti I prossimi contenuti Fatemi sapere la vostra Nei commenti Magari anche mentre siamo in live Potremmo andare a leggere i commenti Vedere anche un po' di teorie Un po' di cose Capire Magari anche un po' voi Come la vedete Tutta questa situazione Sono molto interessato Anche a capire effettivamente Come andrà a finire La storia e la situazione Di Di Della reload Regà Perché veramente Cioè deve uscire Questa nuova mappa Di cui però ancora Non si sta parlando E non è stato confermato nulla Appunto arrivano adesso Le solo Le ranked ci saranno Anche in solo Oppure Alcune delle modalità Di reload Non avranno le ranked Insomma Cioè ci sono situazioni Che vanno sbrogliate Per quello vi dico Che c'è parecchio hype Per stasera Alcuno mi hanno detto Gì ma c'hai hype Che si sa poca roba Sull'evento Non sappiamo come sarà Regà un voto Forse è uno degli eventi Per cui c'ho più Più hype in assoluto Ma neanche troppo Per il discorso Che si va nel capitolo 2 Cioè quello Cioè nel senso Quello Quella è una roba Che arriva dopo No no Io parlo proprio Dell'evento finale in sé Cioè se anche questo evento finale Non c'è Non ci portava Effettivamente al capitolo 2 Io comunque Avrei avuto un hype Pazzesco Per questo evento finale Non specifico Cioè attenzione Assolutamente Assolutamente Detto questo Io mi curo Mi modifico anche le armi Se ci riescono Però mi sa che sta sopra Il banco da lavoro Sì sta sopra Mannaggia La miseria Eccolo Eh regà Se c'hai quanti Desciuri Con la moto sega Soffritto Ah bro Ma per chi M'hai preso Dai Ah no è vero Sta qua Perché non l'ho visto Prima Oh mio dio Siamo in giusto Questo e sto a posto Giusto questo E sto a posto Regà Vabbè in realtà Se faccio in tempo Anche a fare questa cosa Non mi dispiacerebbe Mi metto sto mirino Perfetto Ok Siamo in safe Incredibile La L'isola del bottino È in safe Ah io regà Allora assolutamente Rimango sopra Tanto anche del danno Da caduta Non Ma Ma regà È rimasto il calderone Il calderone De coso Il calderone De 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 doom Bug visivo Ma Ma bro Sei proprio un maledetto Però Sei un maledetto Sei Sei un po' Un maledetto Stasera Va detta Un grande chiarezza Cioè ma stavano Stavano tutti camperati qua Ma veramente Ma come Fa Dovete dire Come Fa Allora Fermi tutti Ma io direi che Ci dovremmo mettere Tipo anche qua sopra Gente con la macchina Vabbè Ovviamente anche i medaglioni Eh sarebbe figo Ragazzi Vincere L'ultima GG News Del capitolo Perché effettivamente Ragazzi abbiamo dato l'addio Alle casettine di fiducia Di questo capitolo 5 Ragazzi No Un bel salutone Alle casettine di fiducia Del capitolo 5 Ragazzi Eh ci hanno accompagnato tanto Eh ne abbiamo fatte tante GG News Durante questo capitolo 5 Mannaggia È vero Effettivamente sì Non sarà l'ultima partita Che squatteriamo lì Perché ripeto Oggi comunque giocheremo Anche in live Eh quindi non è che È la mia ultima partita Del capitolo Eh Anche perché raga La prossima stagione Fortnite Remix Dovrebbe comunque Essere all'interno Del capitolo 5 Di Fortnite Come era stata La stagione Oggi Del capitolo 1 Che era all'interno Del capitolo 4 Però di fatto Tutta sta roba La vai a perdere C'è anche il lutto Dovrebbe insomma Cambiare No Totalmente Quindi Eh È vero È vero È vero Non ci stavo Neanche ripensando Ragazzi Non ci stavo Neanche ripensando Qua scende La lacrimuccia Qua scende Un pochino La lacrimuccia Anzi Mannaggia La miseria Oh mannaggia Dai Ah vediamo Un po' Quello che riusciamo A combinare Allora Qui tipo c'è un cespuglio No regà Io voglio proprio Vincerla Cioè voglio proprio Provare a vincerla Oggi mi vado a mettere Il cespuglio Ah mi sa che c'è qualcuno Dentro quel cespuglio Lì È che però Probabilmente Si muoverà Con la macchina Sta sparando A qualcuno De là Questo giustamente È arrivato di qua Con la jump Ma io c'ho I boccatili E le impulsi Quindi non siamo messi male Abbiamo anche delle buone armi Alla fine le ho modificate io Quindi insomma Non mi posso lamentare Ragazzi abbiamo uno lì Secondo me ancora sono due Sull'isola Uno lì nel cespuglio E basta No però uno è andato qui Quindi mi sa C'abbiamo uno sull'isola Uno qui per dietro Quello dentro questo cespuglio E quello laggiù Eh ma questo nel cespuglio Ragazzi Ma si deve muovere Ma è quello nel cespuglio Che c'ha il medaglione Eh guardalo quello là Oh ma guardalo Come si era preparato il rift Sto maledetto Se l'era proprio preparata bene Dice io campero qua E poi mi muovo direttamente Con il rift Ma allora Non mi preoccuperei troppo Di non avere l'aig In questo momento Di non avere l'altezza In questo momento Perché Tanto ho le impulsi Eh mo spero che questo Non arrivi qua E invece mi sa proprio C'ha proprio desi Oh ma quanto me ce vuole A chi latte Ma veramente Ah facciamoci queste E mi prendo la boccia Regala Perché poi boccia con la Oh non me la prendo Quanto è Ok cento Perché poi regala Boccia con le impulsi E tanta roba Eh come Aia Aia Eh vabbè Sì Vabbè raga Niente Full distrutto Mi sa che è andata Eh abbastanza Eh vedete Tanta roba No regà Se me No no ragazzi Dai cioè nel senso De che stiamo a parlare su Cioè il bro è un attimino Sbroccato con la mira Cioè O citti Fra te O GG per te Eh Mannaggia ragazzi Mi ha distrutto Niente Lo devo dare usare tutta la boccia Eh regà Mo siamo messi male eh Grande cattussino Grandissimo Cattussino Mamma mia Tanto love Per te Eh tanto i bro Se devono muovere tutti Verso di qua Però regà Questo è un fenomeno Cioè o citta O è un fenomeno Regà c'è Porca miseria Oh mio dio Sta lì dentro Quello col coso Col medaglione Un po' rotto le scatole Un po' rotto le scatole Col medaglione Quindi qua non c'è nessuno No forse c'è un Sì sì Madonna Allora Senza usare il dash Ok Fa come si è messo Dov'è mol bro Con la Con il deltaplano Non lo so ma io sono in safe C'ho solo un Un catile adesso Ok questo deve uscire da qui Ok c'è uno là Tanto faccio schifo Col vampa Ma Ok Dai regà Sta a campo aperto Questo Ma che non gli è sparate Eh niente Non l'ho hitto mai No regà Ho saltato Perché ho jumpato Mori Mori Madonna No E lo sapevo che morivo Quei quanti di sciuri Ma io lo sapevo No io voglio vedere quanta vita c'ha E non posso vedere quanta vita c'ha Non ci posso credere ragazzi Rovinata così dai quanti di sciuri Ho iniziato a sparare a quello che stava lontano E non a lui Perché era quello messo meglio Li dovevo indeboli tutti e due Ed effettivamente era andata così Dovevo prendere meno danno da quell'altro No ragazzi Che brutta cosa E vabbè Doveva andare così Tra l'altro quanti di sciuri che avevano tolto Poi l'hanno rimessi per togliere il propulsore Annaggia a loro Mannaggia Detto questo ragazzi Ripeto Un bel mi piace Iscrivetevi al canale Per non perdervi tutti i prossimi contenuti Perché sì La live di oggi La maratona Quella di domani Per la nuova stagione Tutto quello che vi pare Ma ovviamente usciranno una marea di video Una marea di shorts Faremo un sacco di live Quindi insomma Non ve potete perdere niente Vi ricordo il codice creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccando Nel negozio oggetti di fortnite Fondamentale per supportarmi Ragazzuoli Mi raccomando Importantissimo Per me è tutto Ci ritroviamo dopo Con questa mega live Nel pomeriggio E poi con tanti I bei video Contenuti Della nuova stagione Ciao ragazzuoli